Adesso cambiamo argomento perché oggi si chiude la settimana dedicata alla TGR alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. E non potevamo non chiudere questa campagna con la campagna, per così dire, scusate il gioco di parole, perché il nostro territorio ha vocazione fortemente agricola ed è ai primi posti in Italia per quello che riguarda gli infortuni proprio in questo comparto. Ma così come si verificano molti incidenti ad esempio con i trattori o anche le scale su cui si sale per raccogliere frutto o altro possono essere micidiali in questo senso. Vediamo il servizio di Nereo Pedersolli. La raccolta non è proprio le porte ma nei fruttetti si organizza per tempo. Fabrizio Benvenuti ci ha spiegato la sicurezza sui trattori, ma bisogna stare attenti anche con le scale. Esattamente, la scala che viene classificata come attrezzatura semplice in realtà è un pochettino più complessa. Non dimentichiamoci che per quanto riguarda il rischio caduto dall'alto, cosa significa? Significa che nel momento in cui io appoggio i piedi ad un'altezza superiore ai due metri dal terreno, scatta questa tipologia di rischio. Cos'è che bisogna osservare? Allora, innanzitutto la scala deve essere verificata periodicamente, non deve avere crepe, lesioni. Bisogna controllare che abbia anche i pioli per essere conficcata per bene nel terreno. Una scala che, d'accordo, è per gli operatori ma anche noi per uso domestico, cosa dovrebbe avere proprio come caratteristica? Non cambia assolutamente niente da scala d'uso domestico a scala d'uso agricolo. Diciamo che non c'è nessuna normativa al giorno d'oggi che prevede come debba essere costruita una scala. Esiste però una norma unica, deve essere rispettata dal costruttore, che prevede essenzialmente che la scala debba essere costruita con i pioli che siano incastonati all'interno dei montanti. E' un consiglio finale proprio per essere tranquilli? Bisogna essere bravi e capaci di recuperare anche la scala. Allora il consiglio che ci permettiamo di dare ai nostri operatori agricoli, ma già lo sanno, lo ribadiamo, è quello di formare il personale per il corretto uso delle scale. Ci sono lavoratori per cui il pericolo è parte integrante del proprio mestiere. È il caso dei soccorritori in elicottero che si elevano in volo per salvare vite umani in tempi spesso strettissimi e spesso in condizioni difficili. Paolo Gazzi è andato a Puntives, dove ha la sua base dell'elicottero dell'Aiutalpin Dolomites. Vediamo il servizio. Cerchiamo di mettere ordine. In natura i pericoli esistono e nessuno può farci nulla. Ci sono e basta. Il primo metodo per ridurre a zero il rischio di farsi male è stare lontano dal pericolo. Se però è impossibile restare distante dal pericolo, bisogna mettere in atto tutte le sicurezze a disposizione e se del caso inventarne di nuove per ridurre al minimo il rischio. Sembra un gioco di parole, ma in realtà se non si valutano e conoscono bene questi tre fattori, pericolo, rischio e sicurezza, le probabilità di incorrere in un incidente sono altissime. Io dico sempre che noi siamo una catena di quattro anelli. Ognuno ha il suo ruolo. Il pilota deve fare il pilota, il medico il medico, il vericelista il vericelista, e gli soccoritori. Di conseguenza se ognuno di questi sa fare bene il suo lavoro, faremo un intervento perfetto. Chiaramente la fretta forse è anche una delle cause che provocano tanti incidenti. Di conseguenza la fretta porta sicuramente a un rischio maggiore. Controllare giornalmente e meticolosamente le apparecchiature e i mezzi di sicurezza. Prove ed esercitazioni continue permettono ai soccoritori di lavorare tranquilli e ridurre ulteriormente il fattore rischio a favore di una maggiore sicurezza.